Se ciò che vi ha fatto più invidia del matrimonio di William e Kate è stato il lato B di Pippa Middleton, allora avete tre alternative. O vi iscrivete a un corso intensivo di Pilates, o sperate in un miracolo, oppure vi affidate ai leggings push-up realizzati da Calzedonia in occasione del suo 25esimo anniversario. E anche il packaging è up. Sono deliziose scatole di cartone illustrata da acquerello dall'attrice Jacqueline Bisset. Fantasie vintage molto femminili in sei diverse versioni, tessuti d'archivio, packaging in cartone, tutto nel totale rispetto dell'ambiente. Sono iPad e PC case di Maliparmi in limited edition. Disponibili nelle misure di 13, 15 e 17 pollici. Sono in venta a 69 e 89 euro. Non mi dite che non avete un'amica super tecnologica a cui pensare. Ilizorizzato con il compagnie dal 15, 1600 m Sarchivimo. N似 Marinoonelli erano di QTSS e intesoere un secondo per le scopi plaini.